Poco fa parlavamo dei tanti lavori, dei progetti, una cosa che riguarda anche gli incidenti stradali, c'è un importante lavoro alla prevenzione. Siamo stati in collaborazione con il mio amico Michelangelo Milazzo e con Salvatore Lococo, no alcol, no droghe, quando siete un po' brilli fate portare la macchina a chi sta a mio dimostro. Un cd e vite bruciate. Un lavoro che comunque ha avuto anche un buon successo e auguriamo ancora una volta questi messaggi di avere quel successo che meritano. La prevenzione attraverso la musica, quindi la musica e la sua funzione sociale, nella fattispecie. Poi invece l'altro lavoro in teatro, iniziare un musical con Daniele Poi.